Intervenire la deputata Meloni, mia facoltà. Prego. Colleghi, per favore. Ci sedemmo dalla parte del torto, perché tutti gli altri posti erano occupati. Potrei giustificare così, Presidente Draghi, la scelta di Fratelli d'Italia, unico partito in questo Parlamento commissariato, che oggi voterà contro la fiducia al suo Governo. Ma la verità è che non avevamo scelta. Per un fatto di coerenza, sì, certo, per un fatto di serietà, esattamente come nessuno si fiderà più di qualcuno che sottoscrive un contratto e poi non lo rispetta, io penso che allo stesso modo i cittadini debbano diffidare di partiti che non mantengono la parola data. Ma a fondo c'è anche una grande questione politica che in troppi fanno finta di non vedere. Se anche Fratelli d'Italia fosse entrata nel suo Governo, l'Italia sarebbe stata protagonista di una duplice anomalia. Unico Paese europeo ad avere alla guida del proprio Governo una persona che non è stata né direttamente né indirettamente legittimata da un voto popolare e unica democrazia al mondo senza un'opposizione parlamentare, il che avrebbe avvicinato sinistramente l'Italia più alla Corea del Nord che all'Occidente e avrebbe finito per indebolirci tutti, avrebbe finito per indebolire anche lei. La nostra è stata una scelta ponderata, certo scomoda, ma ponderata. Noi scegliamo di dire no all'idea che l'Italia debba essere una democrazia di serie B, alla possibilità che ci siano partiti che hanno sempre meno consenso e sempre più poltrone. Noi scegliamo di denunciare l'ipocrisia di quei soloni che ieri applaudivano Giuseppe Conte e oggi la ringraziano per averci liberato da Giuseppe Conte. E di una sinistra che usa il rischio del Covid per scampare a ben altro rischio, e cioè la possibilità che un centrodestra vincente alle urne possa eleggere un Presidente della Repubblica è indisponibile a tenere il PD al Governo anche se perde continuamente le elezioni. Però intendiamoci, Presidente Draghi, noi speriamo sinceramente che lei possa fare bene e capiamo i tanti italiani in difficoltà, gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori, che gioiscono per la fine del Governo degli incapaci e si aggrappano a lei nella speranza di un futuro migliore. Il problema, Presidente Draghi, è che neanche la sua autorevolezza riesce a nascondere il fatto che diversi di quegli incapaci sono ancora lì, al suo fianco. E che in questo Parlamento la maggioranza ce l'ha PD, 5 Stelle, Renzi, cioè esattamente gli stessi che ci hanno condotto nella situazione nella quale ci troviamo. E lei capirà che è difficile spiegare che l'Italia si possa risollevare con gli stessi che l'hanno affossata. Anche perché dalla composizione del Governo, Presidente Draghi, si direbbe che lei li tiene anche in significativa considerazione. Non so se si sia reso conto di quanti italiani sono rimasti basiti quando è stata letta la lista dei ministri. Un Governo in grandissima continuità, in enorme continuità con l'esecutivo precedente, che aumenta a dismisura il peso del Partito Democratico e in molti speravano che le cose andassero diversamente. Si diceva, c'erano grandi aspettative sulle scelte che lei avrebbe fatto, si diceva, nome nome, Draghi volerà alto sulle miserie dei partiti politici e ci consegnerà una squadra di Governo autorevolissima e snella. E si guardi intorno. Mi dica se in cuor suo lei ritiene davvero che Luigi Di Maio sia il miglior ministro degli esteri possibile per questa nazione. Mi dica se lei in cuor suo pensa davvero che Roberto Speranza andasse confermato mentre i suoi esperti dicono che ci vuole un altro lockdown che significa dichiarare che tutti i sacrifici che abbiamo fatto nell'ultimo anno sono praticamente vani. Siamo al punto di partenza. E la conferma del ministro Lamorgese che invece di fermare l'immigrazione irregolare ferma i decreti sicurezza. Significa che lei condivide quella scelta. E perché Presidente Draghi Domenico Arcuri è ancora lì con gli scandali e i milioni che ha fatto buttare all'Italia con mascherine comprate a più di un euro e la regione Marche guidata da un esponente di Fratelli d'Italia compra quelle stesse mascherine nello stesso momento a 30 centesimi. E sono domande che non ci facciamo solo noi. Certo c'è qualche novità positiva per noi. Ci sono i nostri alleati del centrodestra ma purtroppo sono in minoranza e sarebbero stati in minoranza anche se Fratelli d'Italia fosse entrata al governo. È la dura legge del pallottoliero. Allora voglio dire che ovviamente so che faranno del loro meglio che ci saremo per dar loro una mano e che in ogni caso anche quando questa parentesi sarà terminata ci troveranno qui sempre dalla stessa parte e allora se gli italiani lo vorranno daremo a questa nazione sì un governo autorevole ma anche libero dai compromessi coeso con una visione chiara e un forte mandato popolare. Quanto a lei Presidente ascoltandola ieri mi è venuto in mente Gandhi sì il cambiamento che vuoi vedere nel mondo perché ci sono delle cose interessanti condivisibili in quello che lei ha detto il problema è come si conciliano con le sue scelte cioè come si concilia il richiamo alla crescita economica che significa liberare le aziende dai vincoli garantire libertà di assumere con la scelta di un ministro del lavoro esponente della sinistra più sindacalizzata come si concilia l'enfasi sulle donne e i giovani con un governo che ha contemporaneamente una scarsa presenza femminile e l'età media più alta dell'ultimo decennio come si concilia il fatto di aver diciamo rispondendo a una richiesta che era stata fatta da Fratelli d'Italia per la quale la ringraziamo dare vita a un ministero del turismo ad hoc ma come si concilia il rilancio del turismo con la scelta del ministro Speranza che lei ha condiviso di chiudere la montagna poche ore prima che riaprisse con un'apertura che era stata preparata per mesi come si concilia l'auspicio che l'Italia torni a essere protagonista nel Mediterraneo con la volontà di dialogare con la Turchia del sultano Erdogan che porta avanti una politica imperialista anche contro di noi e quando rivendica la spesa buona elemento che condividiamo molto ma significa che diremo basta alla vergogna del reddito di cittadinanza dato agli spacciatori e useremo quelle risorse per aiutare chi ha davvero bisogno creando lavoro perché se lo farà Presidente Draghi ci troverà al suo fianco e non dovrà neanche darci una poltrona ma in compenso potrebbe trovarsi contro molti di quelli ai quali una poltrona l'ha data già perché oggi li vede sono tutti con lei ma quando scatterà il semestre bianco e scopriranno che non possono andare a casa vedrà quanti temerari dissidenti usciranno fuori ha detto che il suo governo sarà europeista e mi consenta di di dire che credo sarebbe stato più corretto definirlo un governo federalista europeo che è un'altra cosa perché Presidente Draghi si può credere nell'idea d'Europa anche contestando l'attuale costruzione europea che ha fatto dell'Unione un nano politico e un gigante burocratico e finanziario ed è quello che facciamo noi la nostra Europa non è l'Europa federale con le sue continue cessioni di sovranità la nostra idea d'Europa è confederale cioè significa mantenere la sovranità degli stati nazionali e cooperare su alcune grandi materie e questa visione quella che De Gaulle chiamava l'Europa delle patrie quella che i patri costituenti sintetizzavano nell'uniti nella diversità quella che oggi accomuna i partiti conservatori che io ho l'onore di guidare a livello internazionale quella visione a pieno diritto di cittadinanza nel dibattito europeo e non consentiremo che l'ortodossia globalista ci dica che chi la porta avanti è un eretico perché non lo è vada alla conclusione Presidente vedete Presidente Draghi nei momenti drammatici il senso di responsabilità si può manifestare in modi diversi quello che abbiamo scelto noi è di rappresentare anche le voci più flebili quelle dimenticate che in mezzo all'applauso scrosciante della maggioranza non riescono a farsi sentire chi aspetta da mesi i ristori che non arrivano chi vorrebbe solo tornare a lavorare in sicurezza le imprese che lei ha mi consenta sbrigativamente definito o giudicato sacrificabili la incalzeremo la incalzeremo ad esempio ad utilizzare il golden power ogni volta che avremo delle aziende o pezzi del nostro sistema che rischiano di finire fagocitati da aziende straniere faremo quello che dobbiamo fare lei non avrà il nostro voto di fiducia ma avrà il nostro stimolo il nostro supporto per ogni decisione che reputeremo giusta perché noi siamo prima di tutto dei patrioti Presidente Draghi e concludo disse in un celebre discorso che avrebbe salvato l'eurozona whatever it takes e aggiunse credetemi sarà abbastanza oggi quello che noi ci aspettiamo da lei è che dica con la stessa determinazione che farà tutto quello che serve per difendere l'Italia le sue aziende il suo lavoro i suoi confini la sua identità noi la giudicheremo su questo solo su questo senza pregiudizi e senza scontri perché anche noi Presidente Draghi nell'ambito del nostro mandato faremo tutto quello che serve per salvare questa nazione e la sua democrazia e non so dirle se sarà abbastanza ma sarà certamente tutto quello che potevamo fare grazie grazie a tutti